La Commissione Sanità nel documento che ha inviato a Speranza cosa c'è? Ci sono molte cose interessanti, per il Molise c'è la revisione dei parametri del D.M. del Decreto Ministeriale 70 del 2015, il cosiddetto Balduzzi e ci sono le deroghe, la revisione delle deroghe per le regioni più piccole, cosa a cui tenevo moltissimo. C'è la rivisitazione dei commissariamenti, vediamo cosa ci risponderà il Ministro Speranza nelle prossime ore. Dunque la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha messo nero su bianco un documento con il quale si chiede per il Molise e più in generale per le piccole regioni la deroga al Balduzzi, cioè al D.M. 70 che di fatto mette la sanità molisana fuori da ogni parametro necessario per garantire efficienza e qualità. Ma tratta l'argomento, saranno decisive le prossime ore, sottolinea, deciderà il Ministro Speranza a margine della presentazione della Stroke Unit Neurologia del Cardarelli di Campobasso. Un reparto che potrà generare mobilità attiva, punto di riferimento per i molisani ma anche per pazienti provenienti da fuori regione. 9 i neurologi in organico, oltre il personale paramedico, 14 posti letto disponibili e attività garantita H24. L'idea di realizzare un reparto di eccellenza Campobasso per la cura dell'Ictus è del dottore Nicola Iorio, responsabile della Stroke, proposta avanzata alla Giunta che con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, 1 milione e 200 mila euro, ha avviato un percorso di eccellenza. Questa Stroke rappresenta il centro di una rete dell'emergenza, l'emergenza Ictus, ma prevediamo di organizzarsi sull'intero territorio, cioè un'organizzazione che prevede dai centri SPOC, quindi delle aree Ictus anche negli ospedali di Termoli e di Sernia. L'importante è H24, c'è sempre un medico di struttura? Un medico è sempre presente nella nostra struttura che controlla anche di notte, per intenderci, l'intero territorio omolisano. Però avere delle aree SPOC attrezzate significa controllare, nel vero senso della parola, l'intero territorio. Al Cardarelli dunque il cuore pulsante di un reparto all'avanguardia e la possibilità tramite dei robot può di essere presenti su tutto il territorio a Isernia e Termoli. Completato il percorso di formazione del personale, si potranno effettuare visite a distanza. Stiamo pensando all'attivazione nei primi mesi del prossimo anno del Telestruc, che consentirà a questa struttura di controllare attraverso il robottino, quindi un apparecchio elettromedicale periferico, i pazienti che arrivano nelle sedi periferiche, quindi nelle ospedali di Termoli e di Isernia, quindi consentendo al neurologo che è di turno qui in Struc di effettuare una vera e propria visita neurologica per arrivare a decisioni anche terapeutiche, quindi a fine di somministrare nel minor tempo possibile la terapia che evita poi, come sapete, la famosa trombolisi, tanto se ne parla in questi giorni, evita gli esiti invalidanti dell'ictus. Per cui, ho già detto, recuperare l'autonomia per un paziente è cosa importantissima, ma riportarlo ad una vita familiare normale, una vita lavorativa, come dicevo prima, insomma è un guadagno enorme. Avere questa rete significa avere una chance straordinaria. Il commento, infine, del commissario Asarem, Virginia Scafarto, che rimarrà in carica fino alla fine del mese di gennaio, quando Toma avrà la terna di nomi da cui pescare il successore di Gennaro Sosto. Il prossimo obiettivo? Io sono un professionista, resto o vado dove mi chiamano e quindi il mio futuro è, come dire, nelle cose che non so per adesso quali saranno.